Ad un passo dal paradiso Immaginate di essere rilassati su una bellissima spiaggia di finissima sabbia d'oro mentre le onde si infrangono sulla costa e i vostri bambini ridono e giocano sicuri nell'acqua L'hotel Lido Torre Ignazia è un moderno complesso residenziale e sorge direttamente sul mare Questa sua caratteristica ne fa il luogo ideale per trascorrere rilassanti vacanze immersi in una splendida natura all'insegna della più antica tradizione culinaria pugliese Inoltre durante il periodo estivo un simpatico e discreto staff di animazione e mini club permetterà agli ospiti di apprezzare i servizi e le attrezzature sportive che la struttura offre Il complesso è dotato di tutti i comfort necessari e comprende 38 camere, 7 bungalow, 2 sale ristoranti ideali anche per meeting e banchetti, 2 bar con terrazze, sale per cerimonie, discoteca, spiaggia privata parcheggio custodito, giardino ed ampie zone all'aperto circondate da terrazze vista mare Tutte le camere e le zone comuni sono dotate di aria condizionata, riscaldamento, telefono e tv Ad un passo dal paradiso